Ciao carissimi, oggi una riflessione su quello che è ricente avvenuto sulle televisioni italiane. Abbiamo visto l'intervento di Giletti da Mosca, la reazione di Salusti, insomma c'era anche Mirta Merlino che lì ha partecipato a questa cosa, ha cercato di dare senso a questo dibattito e mi hanno scritto moltissimi chiedendomi la mia opinione, poi molti di voi mi chiedono Nicolai ma perché quando tu vai in televisione non affronti questi temi, perché non approfondisci, perché non parli di queste cose qua. Carissimi, io quando vado in tv ospite dei programmi io sono invitato a casa di qualcuno, io non posso entrare con il mio programma, con la mia tesi e sparare a zero fregandomene di quello che è impostazione del programma. Io comunque devo fare quello che un ospite fa, rispondere alle domande, cercare di dare il mio contributo al dialogo ma io non posso cambiare l'impostazione del dialogo, quindi se il giornalista che mi intervista mi fa delle concrete domande io rispondo a queste concrete domande. Poi per carità può capitare come è successo nel passato che magari durante l'intervento televisivo escono fuori i presupposti per una riflessione che va al di fuori dal tema del programma. Così è successo ad esempio quando ho ospite da Francesco Vecchi su Mediaset, su mattino 5, io ho notato improvvisamente sull'uniforme del militare ucraino che era al centro di un video di propaganda ucraina, video con il quale il governo ucraino chiedeva a noi di contribuire alla loro resistenza contro l'invasione russa comprando un aereo, comprando degli aerei di guerra ai piloti ucraini. Ecco il pilota ucraino che chiedeva di comprargli un aereo sull'uniforme aveva un simbolo nazista e io quando ho visto questo simbolo, questa cosa, ho notato che in studio nessuno ha dato attenzione a questo particolare. Tutti parlavano di altre cose ma nessuno si è soffermato a domandarsi ma scusate ma c'è una persona con un simbolo nazista sull'uniforme nazista che ci chiede di comprargli un aereo da guerra. Ma è la realtà o viviamo in un mondo parallelo? Cioè improvvisamente ci siamo spostati in un mondo parallelo. Che cos'è questa cosa? Cioè un nazista ci chiede di comprargli un aereo da guerra? A noi, agli europei? Che comunque abbiamo una memoria della seconda guerra mondiale. Sappiamo che cos'è il nazismo? Che cos'è stato il nazismo? Parecchi un po' tendono a dimenticarlo in questo periodo. Ci sono stati anche quelli che hanno cercato di lavare la faccina al nazismo ucraino raccontando di come sono buoni nazisti di Azov, che in realtà non sono nazisti, sono patrioti, che leggono Kant e sono venuti qua anche le loro mogli a raccontarci come sono bravi i loro mariti. Però, cari amici, sono nazisti. Punto e basta. Questo è il discorso. E io nel programma l'ho detto. E così succede. Così ogni tanto intervengo quando ci sono i presupposti. Stessa cosa è avvenuta ad esempio diverse volte quando sono stato invitato sempre da Mirta all'aria che tira. Se c'era da intervenire, se c'era da dire qualcosa, se c'era da dire la mia, sempre quando si parlava, ad esempio, quando qualcuno difendeva il nazismo, io intervenivo andando fuori dalla rotta che magari era predefinita dal programma. Entravo in un dibattito, creavo un dibattito, perché io non riesco ad assistere ad una glorificazione del nazismo. Non esiste. Io avevo una bisnonna che è stata nei campi di concentramento. Io queste cose non le tollero. Quindi, cari amici, quando c'è la possibilità e quando c'è il senso, io, la mia la dico, ma io sono una persona, cerco di essere una persona educata e quando mi invitano, comunque cerco di seguire sempre quella che è la linea editoriale di un programma. Cosa io penso di quello che è avvenuto dell'azione di Giletti? Secondo me il giornalismo esiste proprio per questo, per raccontare le varie realtà, per dare la voce alle varie realtà. Non so quanto è coerente con il momento storico quello che ha fatto Giletti. Io assolutamente non sono contrario del fatto che Giletti è andato in Russia, perché se vuole andare in Russia, se vuole andare in Giappone, se vuole andare a New York a raccontare i punti di vista di quei paesi rispetto alle problematiche attuali, ma va benissimo. Solo che in questo momento storico è chiaro che andare a Mosca in una fase così ormai degradante nella quale è entrata la guerra, dove la diplomazia ha mancato totalmente, dove l'iniziativa diplomatica non ha funzionato, perché? Per un semplice motivo che la Russia vede il conflitto e vede la situazione geopolitica in maniera totalmente diversa da quanto la vediamo noi. E questo è un difetto sia dei russi che nostro, perché loro da un sacco di anni cercavano di comunicare dicendo guardate che per noi questi sono i problemi, e noi guardavamo dall'altra parte dicendo ma no, ma cosa si inventano? Ma quale guerra in Donbass? Ma non c'è nessuna guerra nel Donbass? Ma non c'è problema del nazismo in Ucraina? Ma stiamo scherzando? Ma non ci sono i nazisti in Ucraina? Ma di cosa loro stanno dicendo? Ma scusate, ma loro stanno parlando del pericolo per la popolazione russofona? Ma non è vero? Ma non c'è? Ma dove? Cioè noi siamo stati a negare, noi occidentali, a negare per un sacco di anni le problematiche che i russi esprimevano apertamente. Poi il fatto che i russi poi hanno utilizzato queste problematiche per giustificare le loro intenzioni imperialiste geopolitiche è un altro discorso. E io l'ho sempre ammesso, io anche nel mio libro ho scritto, quando io ho scritto il libro su Putin, Putin l'ultimo czar, nell'ultima edizione di questo libro che vedete alle mie spalle, la strada da San Pietroburgo all'Ucraina, io ho cercato di raccontare proprio di queste intenzioni, del perché la Russia così interessata alla politica ucraina, perché la Russia vuole entrare nel sud Ucraina, perché la Russia ha preso la Crimea, tutte queste cose le spiego. Ma siamo stati noi, siamo stati noi i nostri politici, anche noi cittadini, siamo stati disattenti, disinteressati nei confronti di gravi problemi che accadevano in Ucraina per otto anni. E improvvisamente adesso a febbraio del 2022 ci siamo svegliati, dopo due anni di Covid, mentre eravamo lì, insomma, chiusi, rinchiusi nei nostri appartamenti, ad obbedire a questa legge sanitaria e cercavamo di salvare noi e la nostra società dalla diffusione di questa terribile malattia. Ecco, sono passati due anni e ci accorgiamo che c'è un problema in Ucraina, ma ci accorgiamo quando già il bubone è esploso, quando ormai lo czar ha mosso l'esercito e ha fatto la guerra. Quindi, in questa situazione degradante, ovviamente andare in Russia davanti al Cremlino a far parlare coloro che in Russia da anni portano avanti la propaganda, la certa propaganda belligerante, secondo me poco utile, poco utile oggi. Perché cosa abbiamo fatto? Sì, abbiamo per l'ennesima volta fatto scontrare due propagande. Da una parte c'era Salaviofe e Zakharava che non hanno detto niente di nuovo, che hanno parlato, tra l'altro, anche nei termini abbastanza scadenti. Io anche dai russi aspetto un po' di riflessioni, un po' di qualcosa di fresco di nuovo nella loro dialettica, ma solo anche nella dialettica. Io non dico nei ragionamenti, per carità. Ma è la stessa dialettica che abbiamo sentito da anni, non è cambiato niente, non è cambiato nulla. E dall'altra parte c'era Salusti. C'era Salusti che ha fatto quello che fa di solito Salusti, quindi non è che noi, cioè non è che qua bisogna esagerare, non so, mettere mani nei capelli. Per chi ha i capelli io non lo posso fare, posso mettere le mani al limite nella barba o nei sopracciglia, che sono abbastanza forti. Ma Salusti ha fatto Salusti, quindi non è che anche lì chissà che cosa... Ma voi da Salusti, scusa, ma c'è qualcuno che aspettava qualcosa di diverso? Secondo me no. Io non aspettavo niente. Io quando l'ho visto Salusti là ho detto ecco, adesso ci sarà qualcosa. E infatti c'è stato questa sua uscita sul palazzo, insomma. Poi per carità ci sta una rabbia in questo momento storico, ci sta una rabbia nei confronti di un sistema che per una persona come Salusti e anche per la gran parte delle persone che abitano in occidente è un sistema dittatoriale, autoritario con il quale sicuramente non andiamo d'accordo, non vogliamo andare d'accordo. E ci sta tutta questa rabbia, per carità. Però un po' di contegno, cioè un po' di, non so, un po' di tatto. Comunque sei un giornalista, sei un semplice, sei un direttore. Un po' di, non so, un po' di etica. Non so, un po' di etica. Si può, si può dire, lui poteva, Salusti secondo me poteva dire le stesse cose, fare l'effetto ancora più forte, però utilizzando dialettiche diverse e utilizzando anche tono diverso. Però è Salusti comunque, ha fatto quello che di solito fa. Per cui io non sono sorpreso, ma non lo biasimo. Io lo capisco, io lo capisco, comprendo le sue ragioni. Io non mi permetterò mai ad esempio di esprimermi in questo modo, ma perché io sono una persona diversa. Però io non sono nessuno per dare le lezioni a Salusti o qualcun altro. Persone adulte vaccinate fanno quello che vogliono, esprimono i loro pensieri. Se lui si è comportato così in quel momento, se lui ha voluto fare così, va bene. Cioè, è una sua decisione. Comunque, in grande linee, secondo me, quella puntata è stata inutile. Inutile per tutti. Giletti probabilmente voleva fare una cosa pacificatoria, dare, non so, nella sua visione forse un po' utopica. Lui voleva creare un presupposto per il dialogo, ma il dialogo non c'è stato. C'è stato l'ennesimo scontro di propaganda, perché comunque anche la nostra è una propaganda. Anche noi abbiamo una linea di mainstream, anche noi abbiamo i giornalisti che vanno su una direzione senza guardare quello che c'è stato, senza riconoscere quelle che sono le basi storiche di un triste evento che noi tutti stiamo vivendo oggi, che è la guerra in Ucraina. La linea dei nostri giornalisti è veramente manca di analisi ed è molto degradante quando io sento dire non mi interessa quello che c'è stato, adesso c'è un paese invaso e l'invasore. Ma questa è un'idiozia. questa è un'idiozia, perché chiunque nel mondo che fa la guerra, se voi conoscete la storia, pochissimi pochissimi paesi leader che hanno iniziato la guerra hanno detto io inizio la guerra perché voglio conquistare, voglio distruggere, perché io sono pazzo, foglio di potere. No, quasi tutti dicevano io faccio la guerra per salvare il mio popolo, per mettere in sicurezza, per permettere al mio paese di sopravvivere. Ma ricordate gli americani, gli americani, l'esempio chiaro, negli Stati Uniti d'America loro si chiamano americani, in realtà americani sono anche quelli che vivono in tutto il continente. Anche qui gli statunitensi sono molto arroganti anche in questo. Diciamo che gli statunitensi quando hanno invaso e distrutto i paesi che hanno invaso e distrutto negli ultimi trent'anni, voi ricordate le loro ragioni? loro dicevano noi lo facciamo per la sicurezza nazionale americana, noi combattiamo il terrorismo, noi esportiamo la democrazia e quindi io trovo ipocrita da parte di tanti giornalisti occidentali, quelli che negli anni passati hanno sostenuto totalmente gli interventi degli Stati Uniti in altri paesi, milioni di morti, vite distrutte, i paesi spianati, la geopolitica distrutta, rovinata di intere aree geografiche e i nostri giornalisti occidentali hanno sostenuto quelle porcherie degli Stati Uniti e adesso mi fanno un discorso completamente diverso, un discorso proprio etico, ma come? Ma noi? Ma c'è un invasore? Non dobbiamo assolutamente vedere quello che c'è stato, ma chi se ne frega? c'è un invasore invaso, ah allora adesso c'è un invasore invaso, ma quando Stati Uniti massacravano Iraq non c'era un invasore invaso, c'era il blocco democratico che portava democrazia in un paese dittatoriale, milioni di morti hanno fatto, milioni di morti di esseri umani e adesso comunque io trovo degradante proprio questa narrazione che si dà alla storia, noi non dobbiamo dimenticare la storia e ricordare la storia non vuol dire giustificare Vladimir Putin, cioè un'altra cosa degradante è che oggi se tu non stai all'interno della narrazione dei mainstream sei un agente di Putin. Subito esce il Corriere della Sera con le liste di proscrizioni e tu finisci dentro perché sei filo russo, perché magari non hai fatto nient'altro che mostrare l'obiettività. Io ad esempio non sono filo russo in senso in cui lo descrive il Corriere, io non sono filo putiniano, io ho scritto libro in cui ho criticato Vladimir Putin, ma io non nego la storia, io non sono folle, io mi ricordo un antico proverbio cinese che dice chi nega la propria storia non avrà futuro e questa è una cosa, questa è una verità nella quale io credo, una verità mostrata da generazioni e generazioni dei nostri antenati. Non bisogna dimenticare la storia, bisogna ricordarla e bisogna essere obiettivi e bisogna discutere, dibattere, mettere sempre in discussione vari eventi storici e capire perché oggi siamo arrivati a una situazione del genere e capire perché esiste qualcuno che non vuole che la guerra si fermi, perché ci sono i paesi che vogliono mandare sempre più armi in Ucraina, perché ci sono i paesi che non vogliono che gli ucraini e i russi smettessero di ammazzarsi, i paesi ai quali è comoda a questa guerra. Quindi io inviterei anche i giornalisti di riflettere su queste cose se qualcuno ci guarda, perché un po' di obiettività in questa narrazione univoca oggi non mancherebbe, perché non si può al popolo, alla gente raccontare sempre le stesse fandonie, perché la gente prima o poi si stanca e smetterà di guardare la tv, smetterà di leggere i giornali, comincerà sempre di più informarsi in maniera alternativa e finirà che il giornalismo diventerà semplicemente una forma di potere e basta, una forma di potere che la società e le masse non accetteranno come parte del sistema sociale. Questo sarà triste, questo sarà triste. E cari amici, io con questo ho concluso dei ragionamenti miei legati a Giletti, alla sua diretta da Mosca, all'uscita di Salusti e così via. Io vi invito ad iscrivervi sui miei canali Facebook, YouTube e Instagram. Su YouTube mettete il campanellino così vi escono tutte le notifiche quando io carico nuovi video. Io vi auguro ogni bene, vi mando un forte abbraccio, a presto!